Uè, non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi vediamo insieme il pass battaglia del capitolo 2 stagione 1 di Fortnite. Al primo posto stili ragazzi per Journey vs Extreme, io non so se lei si chiami così, credo di sì, come vedete rosa di default con stile nero in secondo piano. Stile anche per la seconda skin di default che diventa il capitano Akab quindi molto bello. A livello 2 del pass subito uno spray che non mi piace. A livello 3 ragazzi il cassetta da pesca ragazzi, il backpack. A livello 4 arriva la prima schermata nuova di caricamento che mostra il robot. Subito a livello 5 100 V-Bucks, molto interessanti. A livello 6 abbiamo la prima emote rispetta la pace. Siamo passati direttamente a livello 7, emoji del palloncino con il bersaglio. A livello 8 la prima skin per le armi ragazzi, set acque aperte. E a livello 9 il logo dell'uncino. A livello 10 ragazzi il primo doppio piccone, ascia da pesca con due stili, anzi tre personalizzati. O due, non lo so. A livello 11 ragazzi lo spray della tizia che sta facendo l'arrampicata di prepotenza. Altri 100 V-Bucks a livello 12, a livello 13 bello, bello lo schiaccianoci in versione moto Horg. Mi piace, mi piace un botto, molto carino. A livello 14 arriva il primo deltaplano che non è altro ragazzi che una specie di overboard futuristico con addirittura degli stili. Si chiama peschereccio volante. Livello 15 un GG che ci mancava da un bel po' di tempo. Livello 16 il batti 5 si può fare interazionando, che non so se è una parola, con un altro giocatore. Livello 17 la skin, lo standardo dell'albero della vita. Livello 18 il primo music pack ma io non ho la musica quindi ve lo ascoltate voi. Livello 19 100 V-Bucks. Livello 20 arriva set squadra stucosa, Ripley vs Slime. Come vedete le due stili per la skin del mostro infame. Livello 21 uno dei miei preferiti, una delle mie preferite schermate di caricamento, lo scheletro che fa oscilla. Livello 22 nuovo backpack, borsa campo base con stile personalizzato. Livello 23 delle api ciccione. Livello 24 la prima scia, flusso succoso, molto carina dello slime. Al 25 altri 100 V-Bucks. Livello 26 nuove doppio picconi. Le asce come vedete ci hanno attaccato credo degli charm, charm, chiamateli come vi pare. Stili personalizzati, livello 27. Bello anche il raccolto finale, schermata di caricamento, che ci porta a livello 28. Ripley la nuova copertura. Per le armi a livello 29 una cagata pazzesca. A livello 30 invece il ballo sciolto. Bello sciolto in realtà sarebbe. Livello 31 altri 100 V-Bucks. Al 32 nuova schermata di caricamento con calamity. Molto molto bella. Livello 33 uno standardo interessante. Al 34 il punto 0, la scia del punto 0. A livello 35 invece un mostro sotto forma di spray. Livello 36 arriva un nuovo deltaplano. Parapendio, lo avevamo già visto nel trailer di ieri con stile personalizzato. Livello 37, cattivissimo. La schermata di caricamento del scheletro. Livello 38 il melmazza. Che cavolo è? È un piccone che cambia forma. Fighissimo. Livello 39 100 V-Bucks. Livello 40 un'altra skin del pass battaglia. Rimedio versus Tossina ragazzi. Quindi abbiamo capito che sono le due skin. Bellissima anche l'outfit extra di Tossina. Livello 41 un bel bacione. Livello 42 arriva invece il backpack antidoto. Livello 43 c'era anche lo stile per Tossina. Livello 43 nuova schermata di caricamento. Livello 44 bellissima. La colorazione zebra gialla. Livello 45 100 V-Bucks. Al 46 lo standardo del tossico. Livello 47 Honda T. Nuovo balletto. Molto carino. Livello 48 il background musicale della fine. Che io non posso sentire. Livello 49 molto carino anche. Questo loading screen che va a riprendere. Il robot a livello 50. Metà del pass battaglia. Nuovo piccone. Medascia. Che deve essere quello appunto. Della skin appena vista. Livello 51. Lo spray per l'allerta tossico. Al 52 andiamo con i V-Bucks. Al 53 andiamo con l'emoji. Al 54 otto volante ragazzi. Metti a segno il colpo. Non so. Penso che sia un deltaplano. Non ne ho assolutamente idea. Ma penso di sì. Al 55 schermata di caricamento. E al 56 palle da biliardo prepotenti. Che cadono ed escono da orifizi. Ancora non identificati. Livello 57. Proprio il numero 8. Sulla palla da biliardo. Livello 58. Il cerchio dell'Ula Hoppa. Al 59. 100 V-Bucks al 60. Palla da 8. V versus palla in buca ragazzi. Molto carina entrambe le skin. Un po' strane. Ma ci stanno. Al 61. Andiamo invece con la schermata di caricamento. Al 62 arriva invece il backpack. Quello della palla da 8. E quello della palla in buca. Una nuova. Un nuovo adesivo per il livello 63. Al 64. Molto carina ragazzi. Anche la camo per le armi. Livello 65. 100 V-Bucks al 66. Invece lo spray della palla 8. 67. Nuovo piccone. Doppio colpo di sponda. Fa parte del set di prima. E la scia spettro. Invece occupa la posizione. Numero 68. Al 69. Non mi piace molto. Loading screen. Con la faccia della skin alla deriva. Livello 70. Funghi allucinogeni. Livello 71. Doppio pistole. Pistolero. Livello 72. 100 V-Bucks al 73. Lo spray del Dogus. E al 74 invece. Marchio metallico. Forse era questo. Il deltaplano che vedevamo nella prima immagine del trailer. Nuova schermata di caricamento al 75. Ci sta. Mi piace questo stile. Mi è sempre piaciuto. E chic. Una copertura molto classica per il livello 76. Al 77 un nuovo adesivo con gente che piglia fuoco. E al 78 abbiamo il backpack. Zaino porta spade. Anche questo con due outfit separati. Livello 79. I 100 V-Bucks. E al livello 80. Arriva la skin. Cameo versus chic. Molto bella. Una delle mie preferite. Se devo essere sincero. Soprattutto la versione cameo. Ci sta veramente un sacco. All'81. Ci avviciniamo verso la fine. Vediamo lo standardo delle ondine. All'82. Invece percussori in risalto. Quindi le spade in poche parole. Che fanno parte del set di prima. Livello 83. La schermata di caricamento che prende Demi. All'84 ritmo solido. Lo ascolterete. 85 V-Bucks. E all'86 ragazzi. Arriva il nuovo giocattolo. Boeing. Che penso abbia assolutamente l'attraversamento. Livello 87. Schermata di caricamento. Livello 88. La skin che va a riprendere il DNA. Livello 89. Invece il calamaro che già avevamo visto. E che già va a riprendere il piccone del set del Leviatano. Livello 90. Arriva bobina di fusione. Quindi è un deltaplano con due stili personalizzati. Molto molto belli. Livello 91. Schermata di caricamento del robot. 100 V-Bucks al 92. Al 93. Nessun mirino. Un adesivo. Al 94. La sfera fusione. Anche questa con stili personalizzati. Tre stili. Andiamo a vedere anche il terzo. Molto molto carino. L'impronta di un orso. A livello 95. Al 96. La copertura. Xev. Al 97. L'ultima. Schermata di caricamento. Dominio eterno. Tanta roba ragazzi. Il piccone dell'ultima skin. La falce fusione. A livello 98. 100 V-Bucks. A livello 99. E a livello 100. La skin. Fusione ragazzi. Tanta. Tanta. Roba. Sto dando un'altra occhiata. Mi piace di più la prima versione. Questo ragazzi era il pass battaglia della season 1 capitolo 2. Grazie per aver guardato questo video. Tutti quelli che sono su Twitch. Vado avanti in live. Noi ci vediamo domani poi al prossimo video. Per quelli che sono su YouTube. Grazie per aver guardato questo video.